Inizio nei festeggiamenti di Natale con Mercanzia di Natale, animazione per bambini, stand gastronomici e musica itinerante. Nell'oratorio della compagnia inaugurazione della mostra fotografica il Medioevo ritrovato, curato dalla professoressa Carla Rombi e da Francesco Noferini. E nella Pieve di San Pietro accensione delle luci natalizie e concerto della Corale di Santa Cecilia 1909. Mercatini di Natale del piccolo antiquariato, la casa di Babbo Natale e laboratori per bambini. Alle ore 16 dell'8 dicembre, McCready, Strumbas e Galeotti trio in concerto. L'8 dicembre, Lego Village, esposizioni e laboratori gioco, mercatino dell'ingegno e della dolcezza, premiazioni dell'albero di Natale più bello, calda roste, vin brulee e tante idee per i regali di Natale a cura dei commercianti di Dicomano. Sabato 7 dicembre, concerto di musica per organo nella Pieve di San Silvestro alle ore 21, mentre la domenica 8 dicembre, mercatini di Natale, animazioni con statue viventi, madonnari, artisti di strada e presepi. Grazie a tutti!